Mister, dopo tre settimane di allenamento arriva un allenamento congiunto con i campioni del mondo. Come ha visto la squadra? Come ha risposto in campo? La squadra ha risposto molto bene con le dovute proporzioni perché i campioni del mondo erano ridotti all'osso, però sono sempre ottimi giocatori. Ha risposto bene soprattutto per gli obiettivi che ci eravamo dati durante la settimana e quelli che ho chiesto nello spogliatoio. Volevo dare conferme sul lavoro che avevamo fatto in palestra, a livello tecnico, due o tre punti, ma soprattutto ho chiesto anche un aspetto mentale da curare che era quello di non mollare mai comunque la palla o comunque dare sempre un atteggiamento propositivo nel fare le cose bene. Analizzando a 360 gradi la prestazione atletica di oggi cosa si può dire? Guarda, oggi è la terza settimana ed è una delle più pesanti settimane della preparazione insieme alla quinta. Abbiamo modificato insieme ad Alessio, il preparatore, le sedute pesi per venire a disputare l'amichevole all'allenamento congiunto a Trento. La condizione fisica è buona per questo periodo, quindi sono pieni di dolori e sono stanchi. Ci sarà anche una partita con il Motta tra qualche giorno. Come vi preparerete in vista di quella amichevole, di quella partita, alla luce dei risultati di oggi, di quello che ha visto oggi in campo? Domani si mettono in campo, in allenamento, altri obiettivi tecnici che venerdì dovranno essere rispettati o comunque si dovrà lavorare per ottenere il massimo. Loro devono imparare ad ottenere il massimo, quindi vincere ogni azione della partita con il minimo sforzo. Su quello stiamo lavorando, a Motta avremo altri obiettivi, darò altri obiettivi e vedremo come andrà.